La scritta Hollywood sulle colline di Los Angeles, entrata nella storia del cinema, rischia di essere smontata perché non si sono trovati 25 milioni di dollari per salvare i terreni sui quali è costruita. Public Trust Forlensky, organizzazione no profit del posto, sta amministrando una raccolta fondi che però ferma a 11 milioni. Ancora Cinecomics, stavolta tocca Lanterna Verde, supereroe e protagonista dell'omonimo fumetto della DC Comics. Green Lantern sarà diretto da Martin Campbell, anche se la produzione DC Comics Cinema, Legendary Picture e Warner Bros. Picture stanno ancora lavorando sul cast. In lista ci sono Mark Strong e Jackie O'Reilly, confermati per il momento soltanto Ryan Reynolds, Blake Lovely e Tim Robbins. La Walt Disney sta per rilasciare il suo nuovo lungometraggio, Maga Martina e Libro Magico del Draghetto. Il film è tratto dal popolare romanzo per bambini, Dean Neister, autore che ha venduto oltre 10 milioni di copie al mondo con questa opera. In uscita nelle nostre sale è già pronto il sequel, previsto per il 2011. E questo è tutto, vi lascio con il trailer di oggi. Grazie a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti i nostri spettatori e due atta la visione di oggi, grazie a tutti i nostri spettatori e le nostri spettatori. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.